Senz'altro sicuramente sarà un campionato importante che questi ragazzi dovranno affrontare anche con il sottoscritto che rientra dopo anni di inattività di questi campionati nazionali quindi mi aspetto sicuramente da parte di questi ragazzi un massimo impegno e sicuramente quel sacrificio, quella disponibilità che devono dare qualcosa in più visto che l'importanza del campionato è notevole per loro molti vengono dal calcio a 11 e qualcuno l'ha allenato nelle diverse esperienze passate quindi credo che per loro sia intanto una grande possibilità che la società gli permette di fare e di praticare questo sport che è veramente meraviglioso Le prime risposte sono state positive anche nel recente torneo l'Amendola riservato a prova alle squadre Under-19 diciamo che l'organico è un discreto organico magari non è ancora smaliziato per il calcio a 5 però hai alcuni giocatori che già sono inseriti nella prima squadra Sì, questo qui sicuramente aiuta i ragazzi che stanno in prima squadra può soltanto giovare per chi invece inizia ad avvicinarsi per la prima volta a questo sport quindi penso che il mix di qualcuno che è in prima squadra e chi arriva adesso può sicuramente dare una mano a tutti questi giovani che si stanno avvicinando abbiamo fatto bene in questa prima uscita però chiaramente la squadra ha il suo potenziale importante la società, io ci aspettiamo tanto da questi ragazzi però è vero che noi siamo pure sotto età la categoria è 2006-2007 giochiamo con molti 2007 e anche qualche 2008 quindi è un progetto che può avere una durata abbastanza ampia quindi attendiamo risposte migliori e quindi il tempo ci sarà per vedere questi ragazzi di che pasta sono fatti A livello personale ti stai rimettendo in gioco nel calcio a 5 però possiamo dire per chi ti conosce che sei tornato al tuo primo amore Sì, assolutamente sì ma più che altro in gioco mi sono messo a disposizione per i ragazzi di far conoscere questa disciplina come dici tu che è il mio primo amore anche perché credo che questo possa trasferire molto ai ragazzi e anche migliorarli sull'aspetto pure anche personale c'è molto sacrificio in campo come qualsiasi sport che il ragazzo deve capirlo e lo deve accettare ma anche la vita di tutti i giorni i ragazzi devono capire i propri sacrifici io dico che alla fine lo sport per chi lo pratica deve mettere molta intelligenza se ciò non avviene è un problema la scuola è fondamentale quindi il mix di tutto è la cosa primaria che questi ragazzi devono portare sia da fuori che dentro il campo quindi da parte mia ringrazio la società per avermi dato la possibilità di farne parte di questo progetto e speriamo di ripagare la fiducia concessa perfetto